La giornata nazionale degli alberi pianta solide radici nelle scuole di Varese che ricevono dal comune un melo, simbolo di vita e di scelte basate sulla lungimiranza e la consapevolezza di ciò che si fa si provoca, si lascia a chi verrà. Il valore della buona alimentazione, della frutta cresciuta a chilometro zero, del fatto che poi nulla va sprecato perché nella compostiera i torsoli diventeranno poi nutrimento a loro volta ancora per la stessa pianta. Fondamentale il ruolo di Confagricoltura che ha regalato gli alberi anche per meglio rappresentare centralità e delicatezza del mondo agricolo. Gli alberi oltre ad essere portatori di bellezza e anche di ossigeno rappresentano la produzione per cui rappresentano il mondo agricolo. Un'iniziativa che fin dal suo splendido punto di partenza, il parco di Villa Mirabello, unisce sostenibilità, educazione e cultura del bello, del buono, del genuino. Un bello modo per trascorrere questa bellissima giornata importante che guarda al futuro. Ben intersecata la componente artistica affinché vita e natura vengano sublimate dallo spettacolo. E con un po' di giochi, canzoni e filastrocche divertenti vogliamo sensibilizzare i bambini sull'antispreco e sull'importanza che ogni stagione ha il suo frutto, la sua verdura e come tutto può diventare nutrimento per la terra e quindi un cerchio della vita in cui ci siamo noi con le nostre scelte.